La dimora di Francesco Colonna La dimora di Francesco Colonna La dimora di Francesco Colonna L'armale chiede tutti i banchieri di parcheggiare le proprie carotte e maniera responsabile. Le bambie hanno ricevuto ordine di rimuovere... Ho distillato ola li senti! Che diavolo ci fai, quassù? Quassù? Davvero impressionante, un spirito affidato. Quassù? Credete che qualcuno ci insegnerà un po' di rispetto? Il padre ha benedetto l'iniziativa di alzare i canoni d'affitto delle chiese e delle proprietà del rione. Erodi incerti come questi, è bene che i forzieri della cristianità siano sempre colmi. Ezzio, auditore, fatevi trovare al porto al mio ritorno a Roma. Vi mostrerò l'interno della mia nave. Vivi in questo letamaio di città, anziché nella bella Firenze. Come sei caduto in basso. Duccio, non siamo più, fanciulli. Guardati attorno. Stavolta non sono solo, e tu invece sì. Sta molto attento. Oh, si sta solo parlando, no? Ho saputo che questa città ha però giovato a tua sorella. Non si decideva ad aprire le gambe a Firenze. Invece adesso non fa altro da mani a sé. Per Dio! Che fate, li imparati? Colpitelo! Puoi picchiare, ma ciò non significa che Firenze ti riaprirà le porte. Sparco! 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 Canaglie! Corna! Vi salta solo in trappola! Stegna punizione per i vostri crimini! Corri in fretta ragazzi! Guadagnatevi la paga! Tuo padre fingeva di essere uno di noi, ma sapevamo tutti che eravate degli intrusi! A morte! Caglioppi! Forza, fatelo! Finirà da solo in trappola! Via, via! Bastardi! Addosso! Un secondo! Accettati la stanza di un gatto! Se lo perdiamo il capo non sarà capace! Presto! Non dobbiamo perdere! Adesso ti conviene chiudere il becco e darmi ciò che voglio I tre dipinti di Da Vinci Uno è a bordo Gli altri due sono stati acquistati da un cardinale Intende mostrargli a un'esposizione riservata ad altri prelati Come faccio a entrare? E che ne so io? Chiedila a quella puttana di tua sorella Sono sicuro che sia andata a letto con un paio di cardinani Lasciatevi il passo Stata indietro Andare in giro così serve un po' di tempo Non può più contare sulla flusso di malati alle sue sorgenti termali Ha istituito una fiera della pasta per una settimana Ma dov'è Marco? Doveva tornare qui dopo aver esaminato un altro quadro di Da Vinci dalle parti del Vaticano Immaginate Dopo che avremo aperto il Tempio Inizierà il vero rinascimento E gli insegnamenti di Ermete saranno noti a tutti gli uomini Pazientate, fratelli Presto scopriremo i segreti di quest'opera Immaginate Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.